Sindaco Conio, di nuovo salta la riunione dell'Assemblea dei Sindaci per Riviera Acqua, manca il numero legale ma manca anche la responsabilità, diceva lei. Sì, io mi sono permesso di fare questo appunto, capisco la delicatezza di questa data perché comunque ci sono state elezioni che si sono chiuse ieri, l'allertamento e quant'altro, però la conferenza dei sindaci deve essere uno strumento agile che riesca a lavorare perché siamo chiamati a giudicare e a dare indicazioni su temi veramente importanti. Quindi il mio auspicio è che ci sia un cambio di passo reale, che la conferenza dei sindaci sia sempre costituita in maniera conforme e corretta. Eravamo chiamati oggi a giudicare su un tema estremamente delicato che è l'azione di responsabilità verso il passato CDA di Riviera Acqua. Io avrei chiesto e ho ribadito comunque nella mia posizione il ritiro di questa pratica perché secondo me sono necessari ulteriori approfondimenti. Io ritengo che non sia giusto puntare il dito contro un singolo, contro poche persone. Quando a mio giudizio le responsabilità sono davvero molto più ampie e permettetemi i generali. Ho fatto l'esempio, prima di tutto i sindaci, ci deve essere assunzione di responsabilità. Troppe volte in questi anni la conferenza dei sindaci non si è riuscita a costituire. Ma penso alle società cessate che nel corso degli anni, nel momento in cui Riviera Acqua cercava di dare un servizio e sono state assalite da ricorsi legali, azioni che hanno aggredito la società. Si è lavorato davvero in un mare in tempesta. Oggi puntare il dito contro un singolo secondo me non è corretto. Dico di più e ho chiesto questo. Approfondiamo, il tempo c'è, la società comunque è garantita. Approfondiamo, cerchiamo di comprendere a pieno lo scenario di quegli anni. Dopodiché potremo dare un giudizio sereno e questa secondo me è la cosa più importante e corretta. Non è un caso che due volte su due si è saltata l'assemblea quando c'era da discutere su questo argomento o no? Io temo che non sia un caso, temo che a volte sia più semplice avere un altro impegno piuttosto che decidere. Questo ahimè non è coincidente con le responsabilità a cui siamo chiamati.